questo è leo il camion ciao leo leo ha un grande cassone rosso questi sono stampini un pesce una stella marina e un cavalluccio marino leo li porta alla sabbiera che montagna di sabbia scarichiamo gli stampini questo è l'escavatore scoop ciao scoop scoop ha una grande benna blu che gli piace usare per scavare nella sabbia anche scoop va alla sabbiera . . . . . . . disponiamo gli stampini un cavalluccio giallo una stella marina blu un pesce rosa guarda come Scoop raccoglie la sabbia con la sua venna prima versa la sabbia nel pesce poi nella stella marina e infine nel cavalluccio marino ottimo lavoro Scoop questo è Lifty ciao Lifty Lifty ama aiutare tutti ha una speciale piattaforma per lavorare Lifty va alla sabbiera Lifty ci aiuta a girare gli stampini benissimo ora dobbiamo battere gli stampini vediamo cosa succede un pesce una stella marina un cavalluccio marino splendido continuiamo a giocare oi Scoop ha trovato qualcosa nella sabbiera qualcuno ha bruciato una vecchia ruota dobbiamo toglierla la ruota ci distrarrà Lifty porta la ruota nella spazzatura bravo Lifty questo è un camion della spazzatura ha delle forche per caricare e un ampio cassone chiuso per la spazzatura il camion della spazzatura porta via la spazzatura perché venga lavorata ottimo lavoro veicoli ci siamo divertiti un sacco con voi grazie a tutti